3, 2, 1 Ok, conferma, è loci Ah, sono partite intanto Shunf, Chimera, Donkey Kong, Corrin Gorilla contro 5,99 I due hanno un record vittorio e scopite assurdo Sembra che Shunf vinta 9,8 su 10 Beh, a buon rendere, è un sitato che si incontrano sempre in Grand Final Al Bingong cominciano subito Corrin non sembra avere molte possibilità su Donkey Kong Il che è quasi paradossale Tu immagini sto bestione, lento assai, è invece un finto lento Posso farti una correzione Corrin non ha molto speranza e contro Shunf Non è tanto Donkey Kong, è Shunf E' il fatto che è Shunf Vedi, questa combinazione di lettere deve essere qualche incantesimo magico che fate potenziare Corrin Se non si fosse capito proviamo a evocare la gufata ragazzi Per cui Sì ma così stiamo gufando per chi meno Ma no Non lo so Aia, manata Attenzione, è bella uccisata di Shunf Aia, 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 che dolore Ecco che comincia Shunf Si è già portato a casa il primo Comincia a carryare un poco Per carriare si intende che fa la cargo Sì Ecco Anche che si fa trasportare tanto in Gingong È un trasporto onirico Innanzitutto Cominciano con i Gingong Con le cargo combo Spot oggi è molto No, il Gingong counter è quella E dovete occuparlo ragazzi Non so come devo dirvelo Sono tutti che ci dicono Non vogliamo Shunf Ecco vai Chimera ha tolto una stock E si riporta non dico even però terremoto Sono tutti che ci disturbero Dicendo non vogliamo Shunf In finale Voi perché non Qfate come faccio io Voi perché non Qfate come faccio io Qfate Corrine sta continuando a prendere colpi Sta provando a rimontare Attenzione Da un BD Qualche bella combo di Fire Una buona stringa di Fire Buona discesa Proiettile simpatico Attenzione Continuano Iapair Proiettile è andato a zero Porca miseria È stata rapida Vabbè Tybel ha appena rubato a G 2 a 0 Rip G Bravo lo stesso Se vogliamo bene Vediamo se Chimera ce la fa Perché si sta portando Leggermente Stavo dicendo Leggermente in vantaggio Ora sono in parità però Però attenzione Al peso dello scimmione Downfro che non ucciderà Che non ucciderà mai Attenzione Stava trattando il G No Ha usato troppo Ha usato troppo Si è fatto gimpare A stavolta La revenge Della Gimpare Poi si gimpato Esatto La vendetta dello scimmione Che porta a sciunfo Qui ci dicono Cavolpure 666 Dice tempo zero Tempo zero Aiuto Get out No scherzo Non get out Dicono che Chimera Sta arrollando un casino Il che potrebbe essere Una buona osservazione È una chiave di lettura Purtroppo è quel gorilone Che fa paura E porta anche a arrollare Se mi fanno sarebbe Cyber spot E via spot Perché mi pare che erano Tutte Peccato Peccato Non mi aspettavo Che il G Cyber durasse così Pregno Eh Cazzo è tardino Non la possiamo streamare Ciò un po' Che spara gli shots Coach Vuoi un coach Chimera Vuole un coach Chimera Vuole un coach No C'è del coaching privato Coaching privato Non ci credo Solo ad alto mare smash Con la collaborazione Di nintendo E mario castle Shameless advertising Is shameless Oh ragazzi Non ci portano Picci Di ci portano Gente Ah bene Smashville E noi Contro Chimera Smashville Invece 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 Che ha chiamato La sua Osmosi Vediamo se stavolta Chimera Ha imparato Tra un lezione Di tutto qua Ha usato troppo E l'ha presa Afterlife K Dici che prima Parai Persona Giai Cardio Carriera in questo senso Giusto Speriamo Vediamo Shunf Che si sta portando In bataggio Oh Ma che ha fatto Che cosa ha fatto Incredibile Ha sbagliato Ha fatto Un down Invece Di un up Incredibile Ragazzi Shunf Entra in idol E fa col ding dong Mamma mia E fa col ding dong Perché ti deve Vendicare Però che vita Ha buttata fuori Da Shunf Se ci arriva Se ci arriva Vai di nuovo Con i carry Non dovevi Specificare Con le cargo Down throw Inizia Sai chi è entrato Forse è il primo Della partita Up Shunf Non è riuscito A punirlo Ma sto finendo a punirlo Cargo Back air As solito La solita combo Di Shunf Che abbiamo imparato A odiare Ormai si Tensione Ding dong Ding dong No non basta E' morto Ormai è fuori percentuale Credo O non si è mai Fuori percentuale Scusate Proiettili andato a nullo Vediamo se Shunf Fa la ladrata O se chimera Riesce Entrambe le partite Entrambe le due partite Ha usato Fox Entrambe le partite L'ha ucciso tipo Era uno stock a due No no Tipo Gira fuori stage Lui scende Fail Fosfolato Ce lo può Escrivere con lui Ah che carini Andiamo al terzo incontro Se Shunf vince questa Se ne va in grand final Hanno di nuovo scelto Smashville Chi ha scelto Smashville? Sotto un po' Chimera Per forza Chimera Certo Tecnicamente sarebbe stato A triente sarebbe stato Un'intrazione delle regole Esatto Chimera evidentemente Devo correggere Nextpool Purtroppo Chimera Shunf non è 20-80 E 10-90 Ce lo dicono le statistiche Sono le nostre statistiche Del cos'è Rankade Sì Rankade Il sito Credo che sia tutto italiano Sì credo di sì Di fattori italiani Che forse siamo stati Uno di gruppi più grandi Ad unirsi per primi E ci ha offerto Un ottimo sistema di ranking Nel frattempo Donkey Kong è in Leggero svantaggio Ha di cuore Dello scendere Effettivamente però Ricordiamo che Il suo dannamento funziona Al contrario Più alto Più fa male La larga Da quello scimmione Fa benissimo Fa molto benissimo E fazzi ci abbandona Ding dong Ding dong Fazi se ne è andato Sul ding dong Ding dong Vedi che c'è qualcosa Non va Vediamo chi era Che trova immediatamente Attenzione È stato Il calcamento simpatico Rit di Shunf BOMM Solo la punta Oddio per un attimo L'effetto sembra sempre Dello shield Che mi fa preoccupare Oh qui è rischiato Sbagliato completamente La direzione E comunque È in vantaggio Di percentuale Di almeno 60% Molto Ai 74 Attenzione Non funziona Ma che succede Ding dong Ding dong Ding dong Chi è È un gorilla Un gorilla Un gorilla Incazzato Schofing Grand Final Schofing Grand Final Schofing Grand Final Che non è